Concentrazione alta e niente passi falsi, con poche parole lo stesso mister Giannarella a sintetizzare quello che si aspetta nella gara che sabato la Punto del Sala Consilina dovrà affrontare in casa della Roma 7 Volley. Le 5 vittorie di fila conquistate finora dalla compagine salese infatti spingono le bianco-rosse ai vertici della classifica di serie B2 del Girone F. Ma il coach Peppe Giannarella preferisce gettare acqua sul fuoco dell'entusiasmo nato dal fatto che le signore della palla a volo sono ancora imbattute. I risultati fin cui ottenuti sono meritati ma non abbiamo fatto ancora niente, il campionato è lungo e abbiamo disputato soltanto 5 partite, dice mister Giannarella, che sta preparando con grande concentrazione la prossima gara contro la Roma 7 Volley in programma sabato prossimo alle 16.30 al Palagiorgi di Roma. L'allenatore Lucano ritiene che si tratti di una trasferta piena di insidie, mi aspetto dalle mie ragazze una prova di carattere, mi devono dimostrare di aver capito gli errori fatti nell'ultima partita in casa con il Tralfo Arabona, conclude Giannarella. Il coach della PuntoTel non lo dice a chiare lettera, ma il messaggio è molto chiaro, dalle sue ragazze a Roma si attende maggiore concentrazione e soprattutto continuità di rendimento senza cali mentali nel corso della gara. Per quanto concerne il sestetto base che scendere in campo non si sa ancora nulla, le ragazze stanno tutte bene e quindi mister Giannarella potrà contare sull'intera rosa.